salve a tutti ragazzi benvenuti da shiva e siamo un nuovo video di planti contro zombie nell'ultimo episodio ci hanno veramente fatto il sederino con stelle strisce e speriamo che questo sia la volta buona che glielo faccia io allora vediamo di impostare la strategia c'è questo qui che se non sbaglio evoca altri zombie quando arriva quindi devo avere una forza di attacco immediata quindi facciamo così così poi mettiamo questi qua devo tocca metterli questi qua questi qua è qualcosa che costi poco gli direi questo sicuramente questo qui per le emergenze ma devo fare in modo che io abbia più monete possibili quindi che spenda meno frodi possibili io questi mi ricordavo che se le mettevo veniva qualcosa ma non era mai come questi va bene proviamo così dai vediamo e speriamo che vada bene allora subito partiamo in gran pompa vai così quando questi sono gratis purtroppo ho paura che questo sia un duello praticamente senza respiro vediamo un po' eh infatti è già arrivato si è già arrivato allora facciamo così dai funghetti ok questo sta andando qui facciamo così bene questa è andata questo qua dai dai su fate qualcosa bravi ah non stiamo andando male che ne ho già sette otte sei madonna oggi non sono neanche a contare ok ok benissimo ottimo ok me ne manca uno di quelli no due lo spietro non so contare allora mi manca uno adesso perfetto l'ultima è andata adesso ci concentriamo sull'attacco vediamo un po' come poter fare se non mi mangio la parola è meglio allora questo andiamo un po' perfetto direi che sembrerebbe la cosa migliore adesso questi li metto per rallentare sono gratuiti posso usarli quindi ho cresciuto il funghetto benissimo questo lo usiamo per rallentare un altro funghetto cresciuto ok direi che stanno facendo il loro lavoro ecco il disco tu e no non ti faccio andare avanti tanto finchè posso fare qualcosa lo faccio ecco 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 ec ne metterei un altro per sicurezza qui facciamo così, facciamo così, facciamo così e questo è libero ok dai non stiamo andando male male ah non ho preso i mangiatombe ho fatto una bella cretinata ok dai l'ondata sta andando abbastanza bene ok direi di fare una cosa tipo questa e metterci uno di questi adesso ci arriva l'ondata e qui sono cavoli, cavoli, cavoli ok facciamo così intanto l'avvento discorso eh devi qui era l'unica dai su forza non mi fa niente eccoci qua incontriamo di oh ce l'ho fatta ed ecco qui eh non è che sia proprio facile ah ce l'ho fatta perfetto un funghetto nuovo vediamo cos'è ok stavolta è andata meglio distruggi una vasta aria lasciando sul posto un cratere quindi lì dopo non ci puoi costruire questa è proprio come ultima speranza se lascio il cratere non posso costruire va bene proviamo proviamo discorso ancora allora lui lui questo mi serve devo ricordarmelo mi serve questo mi serve questo mi serve questo e questo senza meno e questo e le bombe proviamo a togliere questa e mettere le bombe perché se arriva molta gente devo fare così ok proviamo vai partiamo in gran pompa perfetto diamo subito 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 più veloce che possiamo ottimo adesso forza ce la puoi fare ah io ho 15 questi carini facessero qualcosa eh ma io c'ho già qualcosa prima della quante tombe è una cosa esagerata ok dai ce la possiamo fare ok data vediamo cosa fare cerca di rallentare più che posso bene è andata e mi tocca per così finché non non faccio qualcosa di meglio perfetto ok è andata devo assolutamente liberarmi di qualche tomba se no addirittura un diamante mi hai dato una bella cosa non me l'aspettavo ok dovrò fare qualcosa di grosso qui qui mi tocca liberare se no non ho spazio ok cerchiamo di fare più punti possibili ok è andata l'ultima vai adesso penso l'attacco allora mettiamone più che possiamo sono gratis usiamole bene è cresciuto ottimo cominciamo a usare questi ok ok facciamo così giusto perché sono gratis ok vai cominci a sparare bravissimo tu sì che mi rendi fiero d'orgoglioso ah non me l'hai fatto va bene una volta che volevo bene un altro qua la prima ondata sta per arrivare io non ho ancora la difesa completa ok adesso devo usare questi liberarmi un pochino benissimo adesso arriva l'ondata ottimo direi che o aspetto per avere 200 ok un altro funghetto è cresciuto 200 dove posso qua assolutamente qua ottimo 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 adesso mi faccio un altro 200 ottimo lo metto qua perfetto dai che stiamo andando abbastanza bene strategia funziona questa è la prima ondata qui un altro assolutamente questa arriva quella con la porta io qua non ho ancora quello da 200 devo assolutamente farlo adesso questo è gratis lo metto qua questo da 200 lo metto subito ecco qua così dovrebbe farcela questo lo fermerà ancora un po' perfetto ottimo eh sì adesso andiamo bene l'ondata è ancora lontana vediamo un po' quello da 200 ci siamo quasi eh mi devo cattare quello da 200 perché sennò qui dopo è un casino ottimo vai bene perfetto doveva arrivare 200 dai fate fate funghettini fate qualcosa no proprio così ale ce l'abbiamo fatta ok perfetto 200 eh non posso usarlo adesso eh cosa faccio questo dai perfetto ok questo è gratis lo proviamo a mettere bene e sta proviamo all'ondata devo assolutamente mettere un altro da doppio ok questi li mettiamo per rallentare un altro doppio lo mettiamo qui devo quasi mettere un scudo eh disco stu è rotto veramente ok eh disco stu eccoci qua ottimo ce l'abbiamo fatta ottimo andata è andata è andata perfetto ce l'abbiamo fatta ce l'abbiamo fatta ce l'abbiamo fatta ce l'abbiamo fatta è andata bene direi vediamo cosa mi dici non mi ha detto niente vediamo salve ci piacerebbe venirti a trovare per lo spuntino di mezzanotte che ne dici di un po' di cervello ricoperto di gelato era una domanda un po' ambigua ti senti saluti di zombie ah beh almeno sanno anche scrivere non sanno camminare però sanno scrivere va bene ragazzi direi che per questo video è tutto e noi ci vediamo al prossimo video ciao a tutti da Shiva ciao a tutti